Caraibi gente, bentornati a un nuovo appuntamento con Chi c'è da Ualone. Questa sera abbiamo un ospite veramente figo, non che le altre sere insomma siano ospiti di poco conto. In questa trasmissione viene gente fantastica da vedere e da ascoltare, quindi non perdiamo altro tempo e lanciamo subito la nostra spettacolare sigla. Oh, eccoci qua. Allora, stasera è qui con noi, signore e signori, Fabio Kenobit Bortolotti. Caraibi, caraibi Kenobit, caraibi, caraibi. Allora, c'è stato un momento quando vai avanti e indietro che l'autofocus della webcam... Non è l'autofocus, possiamo parlare male di autofocus della Logitech. È uno dei nostri argomenti di questa sera. Esattamente, che culo. Assolutamente. Caraibi Fabio, caraibi. Aspetta che mi metto un po' di Skype davanti, se no mi vedo, vedo me stesso in ritardo di dieci secondi ed è una roba che ti spacca completamente il cervello. Sì, esattamente, esattamente. Allora, però in realtà potresti anche farlo, chi se ne frega, comunque un po' quel genere. Con te in genere le serate sono un po' così, a base di cervelli che esplodono per qualche motivo. Sarà assolutamente la passione per che cosa stai facendo. Leggo dalla chat che ho poco audio e quindi se... Aspetta, aspetta, adesso cerchiamo di capire. Controllate, ditemi che mi si senta bene. Allora... Anche perché ho la febbre questa sera, quindi... Allora, i miei livelli sembrano a posto, eh? Ah, rimbomba un sacco. Rimbomba un po' lontano dal microfono, magari. Aspetta, aspetta, aspetta. Fa tantissimo eco. Ok, allora, adesso cerchiamo di aggiustare. Eccoci qua, così non dovrebbe più esserci eco. Ok, va bene. Magari facciamo un check tra un altro po'. Se ti avvicini il gelatone ci guadagni, dice Gorman, lui che è esperto di gelatoni e di avvicinarli. No, è vero, perché usa lo stesso microfono e fa esattamente così. Allora, Fabio, dobbiamo parlare di un sacco di cose questa sera. Innanzitutto, non so se hai seguito un po' in queste settimane questa novità di chi c'è da ualone, se hai visto di sfuggita... Innanzitutto che figata è la sigla. Vero? Vero? La sigla mi fa un sacco di invidia. Ah, questa è una cosa fighissima, perché tu sei molto attento in genere a queste cose, sarà una delle cose che ti chiederò. La cura per i thumbnail, per esempio, anche delle repliche caricate su YouTube, per esempio. Mi piacciono sempre un sacco, c'è sempre tantissima attenzione. Ne parliamo, ne parliamo. Sì, assolutamente, anche perché le thumbnail sono dei miei argomenti preferiti, anche se specifico, faccio schifo a fare le thumbnail, nel senso mi piacciono e mi ci diverto, ma c'è un modo preciso, codificato, funzionante di fare delle thumbnail che ottimizzano la quantità di view che fai. È una roba che... C'è uno studio, ci sono vari studi, quindi tu... Esatto, sì, sì, no, assolutamente. Cioè, proprio è dimostrato su YouTube, proprio statisticamente, che se tu lo stesso video lo calchi con due thumbnail diversi, hai due risultati diversi. E in particolare, la gente è portata... Perché al fine, la comunicazione su internet, Twitch, YouTube, Facebook, è come fare scuola di comunicazione col mitragliatore. Nel senso che sono... Non ci sono regole, tutto cambia molto velocemente, l'attenzione della gente è un bene molto, molto, molto limitato, e quindi tu devi farle... Devi intercettare questa attenzione. Ed è una roba per la quale le riviste che io e te abbiamo fatte insieme, su tante cose mi hanno insegnato tantissimo. La linea editoriale, il concept di un contenuto, quella è roba buona. La roba che ho dovuto disimparare completamente è un certo modo acconcio di fare grafica. Cioè, noi facevamo le riviste, erano fatte bene, c'erano i box messi in un modo, le dite in un altro modo, gli strilli in un certo modo, niente era troppo grosso, ecco. Quello è fare i signorini su YouTube. E non funziona, cioè, praticamente uguale a... Io all'inizio avevo preso e facevo delle thumbnail, sempre con lo stesso font, sempre con un template che mi ero fatto, così. Perché in quel modo tu aprivi il mio canale di YouTube e... Trovavi una certa coerenza nel tempo. E poi ha cambiato il video. Nessuno, nessuno mai guarderà la tua pagina di YouTube e darà una valutazione alla coerenza della tua immagine coordinata. E a un certo punto, ma per caso, cioè, però sapevo che funzionavano le thumbnail con le facce e tutto, perché, appunto, un po' di studi dimostrano che tu sei molto portato, proprio come essere umano, a cliccare sui visi, su dove riconosci i volti, eccetera. Il tuo primo istinto della corteccia proprio è cliccare su quello. Ed è il motivo per cui quelle thumbnail acchiappano di più. Però a me faceva cagare come tipo di gioco. Ho detto, vabbè, ok, voglio fare più vivo con i miei video, sì, ma non ho voglia di fare questa pantomima di mettersi lì con la faccia. Non crederete mai, ho anche solo i titoli, in un certo modo, la, che ne so, l'immagine lievemente più ammiccante del video che hai messo, e che poi non c'entra niente, magari, tu così, uh, ecco, quella roba lì non la volevo, scontornandoti, facendoti l'outline, bello spesso, che così si vede bene sulla thumbnail piccola. Non mi piaceva questa roba. E allora ho iniziato, un po' per caso, cioè, ho iniziato partendo, ok, vabbè, ma fare queste immagini coordinate non serve a niente. Adesso metto un'immagine alla cazzo di cane, bam, metto un comodo, senza niente, senza scritte. Allora, attualmente... Non c'era neanche un'immagine... Per cui cercavo le immagini in alta rivoluzione. Guarda, stiamo sfogliando in questo momento proprio sulle riviste. Il canale YouTube di Kenobi Sboc, con gli ultimi, dell'ultimo anno, ma guarda, c'è anche una faccia di ualoni all'improvviso, per far capire il caos che ci può essere nel... Ecco, ma questa qua è un po' la spotlight del canale. Se tu vai e guardi tra i video proprio, quindi li metti non nell'ordine delle playlist qua, ma guardi... No, 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 questo sono i video in ordine dal più vecchio al più recente e stiamo andando verso i più recenti. Questi sono quelli di sette mesi fa e stiamo andando verso quelli di sei mesi fa. Eh, vedi, c'è della roba sempre più matta. E la cosa che ha iniziato a divertirmi è che ho iniziato a vederci un layer di psicologia matta. Diceva, secondo me, se metto questa roba funziona. Tipo, di recente abbiamo fatto due speciali sul Mega CD con questa cartuccia qua. Sì, che non funziona, un po' seguito, che funzionava e non funzionava. Esatto, questa cartuccia nella prima serata non funzionava. E quindi avevo fatto il titolo che era Non funziona una Sega CD. Sì. E avevo fatto un tipo un artwork bruttissimo con un water e un CD, un CD-ROM. Sì. Ma così è funzionato bene. Abbiamo fatto la seconda in cui funzionava il Mega CD finalmente e ho cercato Dio su Google Immagini. Ho cercato Dio e ho trovato questa immagine inspiration bellissima di un tipo così di spalle al tramonto e ci ho messo sopra un Mega CD e ho scritto Grazie Mega CD! E un video così funziona di più, gira di più e mi fa morire dal ridere questa cosa. Quindi non sono un esperto dell'età, so cosa potrei fare per fare delle thumbnail più performanti ma mi sto divertendo tantissimo è proprio un dialogo con YouTube vedere cosa funziona e come. E questo è fantastico. Senti, è fantastico anche che ci ha appena raidato un certo canale chiamato Kenobisbo. C'è il canale, sono dei nuovi ragazzi. C'era dall'altra parte il Bellotta che stava giocando in Real Hardware con un Nintendo DS. Ciao, ciao riders di Kenobisbo. Caraibi amici di Kenobisbo, caraibi, caraibi, benvenuti, benvenuti. Se ancora non eravate mai stati qui su Voloni IGN lasciateci un follow anche perché così potrete commentare in chat. Caraibi a tutti, caraibi bellotta, caraibi. Come parliamo? Allora aspetta, fammi fare una cosa, una piccola cosa ordinata che è il contrario di quello che stavamo dicendo. lanciamo la parte di trasmissione in cui si parla dell'ospite. No, infatti non è questa, è la chiacchiera, vedi? Ordinata ma disordinata. L'ospite invece, l'ospite. Parliamo dell'ospite. Oh, ma è vero che si fondono un po' le due parti, l'ospite e la chiacchiera, ma più avanti ci addentriamo più nella chiacchiera, cioè su argomenti. Adesso l'ospite. Parliamo di Fabio Kenobit Bortolotti. Questa, visto che già ne stavamo parlando, l'attività di tenere insieme al nostro comune amico Bisboc, Andrea Babic, e a questo punto ad altri personaggi un po' più recenti, come Bellotta. Sì, assolutamente. Al momento il timone di Kenobisboc è 33,3 periodico me, Babic e Bellotta. No, ma questa cosa è fantastica. È la prima volta che sento parlare di Bellotta in questi termini numerici. No, no, assolutamente, ma perché è una roba nella quale investiamo tutti così tanto tempo che deve per forza essere una roba nostra. È bellissimo perché Bellotta è fantastico per me. Sì. C'è tutta una crew di amici che orbitano intorno ai nostri stream. Ci sono i Kenosvizzeri, gli amici di Bellotta. Qua a Milano ci sei tu, c'è Surgo. Ci sono dei videogiocatori che abbiamo conosciuto nella community. Amici, musicisti, fumettisti. Tutta la gente che capita a casa mia, di fatto. Allora, Alfiere Nero dice quindi perché non rinominare il canale in Kenobisbellotta? Perché secondo me Kenobisboc è una parola troppo figa ormai. Lascia stare che è il mio cruccio perché io detesto i nomi autoreferenziali. A me sta sulle palle il fatto che la band di Bon Jovi si chiamasse Bon Jovi e lui fosse Bon Jovi. Ivan Allen. Non mi piace questa roba. Devono essere i Pink Floyd che siamo tutti insieme. Sì, sì, sì. I Pink Floyd. Però quando è nato il canale io e Babbage non avevamo assolutamente idea che sarebbe andata così. Abbiamo iniziato per promuovere una serata dal vivo e nel giro di qualche mese ci siamo resi conto che ci piaceva molto di più fare streaming perché ai tempi eravamo su Eatbox Eatbox.tv concorrente di Twitch finito sotto un treno e... Mi ricordo moltissimo quel periodo. Era veramente tanto, tanto nicchia tanto indie molto... Guarda, io li voglio bene perché è stato in realtà un crogiuolo per la nostra community e la resa più coesa e un po' più underground e nicchiamata. Sì, sì. Però appunto non immaginavo che sarebbe diventata un'operazione così innanzitutto così predominante nella mia vita quotidiana nelle mie ambizioni ma anche che si sarebbe allargata così tanto perché appunto all'inizio pensavamo di farlo solo io e Babbage mai avremmo immaginato di avere così tanti ospiti e mai avremmo immaginato di proprio cooptare un alleato come Bellotta e quindi il nome era Kenobisboc Kenobit Bisboc adesso mi dispiace un pochettino perché è un nome che ormai è catchy funziona ci abbiamo messo una vita a farlo passare come messaggio e così ce l'abbiamo però però penso sempre che in un futuro magari quando non lo so le cose andranno benissimo e potrò fare un mestiere di questa cosa magari diventeremo KBTV perché Kenobisboc KBTV KB alla fine sta per Kenobit Bisboc Kenobit Bisboc Bellotta Kenobit Bellotta Kenobit Bellotta ma anche per Kilobyte e anche Kilobrammo no non esiste il Kilobrammo però no niente allora se ancora non l'avete fatto ragazzi seguite il link che è appena comparso in chat e andate a mettere un follow a Kenobisboc così per curiosare ma insomma qui ci sarà un sacco noi abbiamo tantissimi amici in comune tra questi canali poi adesso ci sono arrivati tutti quelli del ride quindi però quei due o tre che ancora non conoscessero il canale Kenobisboc su Twitch seguite il link andate a a followarlo così nei prossimi giorni magari date un'occhiata a che cosa fanno anche se è facile svelare in anche in una sola parola l'argomento principale di Kenobisboc che è un po' la passione per il retro gaming no? esatto anche se Fabio tu hai sempre avuto una visione molto particolare del retro gaming che a me piace tantissimo e cioè che è quella nostalgica in senso positivo ma alla fine non tanto nostalgica perché è più di scoperta di un mondo di giochi che sono lì e aspettano appunto solo di essere provati allora ti dico la nostalgia mi dico sempre che l'obiettivo non è la nostalgia la nostalgia è un effetto secondario che innanzitutto provi solo se c'eri in quegli anni esatto e quindi puntare tutto sulla nostalgia secondo me esclude tutta la fetta più interessante di pubblico del retro gaming che è quello che non li ha mai proprio conoscerli quei giochi cioè come per me come persona che comunica è bellissimo l'idea di fare vedere Bubble Bobble a una ragazzina di 17 anni che è nata mille anni dopo qualche uscisse e gli lo sto facendo vedere per la prima volta e le interessa secondo me il retro gaming non deve essere nostalgia anche per quello detto questo la nostalgia è una roba che succede con il retro gaming e quando succede tanto vale godersela anche perché per noi videogiocatori sai ovvio se tu peschi nella gente che non gioca la nostalgia scatta per una selezione limitatissima di giochi per puzzle bubble per tetris street fighter una roba proprio che colpisce cioè le robe di questo livello e così ma per noi videogiocatori la nostalgia del retro gaming arriva dai luoghi più inaspettati arriva dalla pubblicità di jerry cala arriva da quel suono del sega master system arriva da quel gioco di merda che ti hanno regalato e che non fa nostalgia a nessuno però un sacco di vostre trasmissioni hanno avuto come titolo giochi di merda proprio quello è una ruffianata anche perché noi spesso cioè facciamo secondo me almeno un gioco di merda serata volontario o non perché appunto andando a esplorare i cataloghi delle console cose che ultimamente facciamo fieramente in real hardware perché finché le macchine ci sono siamo convinti che facciano parte del racconto nel senso tra 30 anni magari il megadrive non funzionerà più finché ce l'abbiamo e raccontiamo com'era giocare con il megadrive vero e con questo controller qua invece che sull'emulatore quindi mettere dentro la cassetta il tasto il tubo catodico questa roba qua abbiamo fatto degli sforzi enormi per setuparla perché ovviamente un emulatore è molto più facile e molto più economico noi abbiamo ho un setup complicatissimo esco dal megadrive entro via scart rgb importante in una ciabatta che però non è una ciabatta qualunque una g-scart sv che quindi prende il segnale rgb preciso è alimentata quindi è attiva e addirittura per parlarsi bene con la roba tipo il gato ha un piccolo hardware on board che fa il sync refresh in pratica campiona si campiona il segnale di sincronia mandato il tubo catodico lo ripassa in digitale lo ributta fuori quantizzato alla percezione adesso so che c'è bellotta in chat e ti sta mentalmente cazziando perché non stai dicendo in modo preciso come funziona 10 in esattezze che ho detto adesso magari bellotta ce lo dice direttamente in chat da quello quello lì sdoppia entra uno nel tubo catodico così noi il gioco ce lo godiamo perfettamente senza latenza alcuna in maniera perfetta l'altro esce dentro un upscaler che però non è un upscaler di quelli che prendi su Amazon uno di quelli un po' stronzi che ti devi mettere in lista d'attesa così entriamo in scart lì dentro e poi usciamo in in hdmi upscalato dentro un elgato e poi obs ed è un casino cioè una roba che per fare la stessa cosa con i colori perfetti con tutto lo facevi con l'emulatore con la differenza proprio quei tre giochi non erano emulati alla perfezione non se ne rende racconto mai nessuno no infatti magari puoi tenere anche la console lì toccarla con mano però no sono è bello è bello questa cosa è una fissa è una fissa ma viva le fisse ci torniamo ci torniamo su questo argomento prima volevo chiederti è una curiosità che sai che non so se ho io una risposta anche a questa cosa intanto ringraziamo anche Ragnetta e i suoi amici che sono arrivati con un altro ride Caraibi Ragnetta Caraibi amici di Ragnetta benvenuti qui a Chi c'è da Wallone stasera stiamo chiacchierando con Fabio Kenobit Bortolotti e io ti volevo chiedere Fabio allora c'è una cosa innanzitutto all'inizio il canale è partito con te e Babic Andrea Babic Bisboc e come la coppia come nasce no al di là della coincidenza che so benissimo qual è cioè della questione di aver lavorato per le riviste però che cos'è che ha fatto poi formare e mantenere nel tempo questa questa coppia raccontaci un po' voi avete iniziato conoscendovi perché Bisboc lavorava a Xbox Magazine ufficiale nella prima metà degli anni 2000 esatto e tu sei arrivato lì come collaboratore e questa diciamo è la storia normale ma poi cos'è successo perché vi siete innamorati che cos'è successo ma allora abbiamo la roba che per me è estremamente romantica di Kenobi e Babic parliamo spesso della bromanza sì è che quello che noi facciamo oggi con Kenobi è esattamente la stessa cosa che abbiamo iniziato a fare tre settimane dopo che ci siamo conosciuti e che tutto sommato non abbiamo mai smesso di fare trovarci la sera mangiare qualcosa farci le chiacchiere giocare con dei videogiochi andando a recuperare roba vecchia che ci piace per la quale avevamo una passione comune e suonare la chitarra e cazzeggiare e berci tre vivre e quello che abbiamo iniziato a fare poco dopo esserci conosciuti ma banalmente to abbiamo fatto tardi al lavoro andiamo a mangiare una pizza insieme è una roba simile e iniziamo a parlare di musica io mi ricordo che credo che il momento in cui Babi ci ha pensato che non fossi un cretino è quando mi stava parlando di stavamo parlando di fonazione e di rock progressivo queste cose qui e lui mi stava citando in maniera non non esplicita stava parlando di Demetrio Stratos che era il cantante degli area che facendo dei giochi pazzeschi di armoniche con la bocca faceva due note contemporaneamente o anche tre note contemporaneamente cosa che una voce umana normalmente non fa ed erano le diplofonie e le triplofonie io avevo detto questa roba ad Andrea e Andrea mi fa ma allora ascolti musica e da lì mi fa ma sai che dovremmo fare insieme un canale twitch sul retro gaming secondo me è stata più o meno così dai riassumendo è iniziata in realtà prima che ce lo facevamo per i fatti nostri poi a un certo punto io ho iniziato a suonare tanto con con il game boy e quindi organizzare concerti serate così a un certo punto dovevo avevo organizzato una serata in questo piccolo circolo arci in zona isola adesso vicinissimo a Gaulenti se se lo fossero tenuti sarebbe una miniera d'oro ma vabbè e a un certo punto e lì facevamo dei concertini si chiamavano Beat Brother e era fico perché potevo il posto era piccolo ma potevo invitare gente dall'Europa era una piccola scena ma molto bella qualcuno in chat secondo me c'era e a un certo punto ci rompono i coglioni dal condominio carabinieri di qua di là ci impediscono di fare la cosa e quindi però avevamo già una serata fissata e tipo tre giorni per riempirla con qualcosa perché non ci sarebbe stato un concerto al che io dico vabbè mi porto il computer attacco il mame porto l'arcade stick doppio ci beviamo qualche birra e giochiamo e facciamo la serata di retro gaming e la prima la feci io da solo e poi è piaciuta è venuta bene così facciamone un'altra e abbiamo iniziato a farle io e Babic e da lì intanto scusami questa roba è una serata Beatbrother intanto questa roba Matt 64 da Roma che sta suonando un Commodore 64 emulato sulla sua PSP con un emulatore per PSP che si è scritto lui perché se avete visto l'anno scorso i flyer di Lucca Comics and Games and Games and Knuckles avete presente quelli generativi fatti da Lorenzo Ceccotti che ognuno aveva un flyer diverso per la sua Lucca sì 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 ecco lui è il coder lui è quello che ha fatto il codice di quella roba lì fantastico comunque a un certo punto noi lì non abbiamo più potuto andare non abbiamo più potuto fare le serate di musica abbiamo iniziato a fare quelle di retro gaming e sono andate bene ci sono piaciute ci divertivamo un sacco era una roba che insert coin insert coin era una roba che finalmente cioè non finalmente perché non è che ce ne fregasse niente ma era una roba che dava uno sfogo pubblico a una roba che noi facevamo e che vivevamo con molta passione cioè io a volte pensavo ma che peccato che non ci sia nessuno con cui condividere questa roba che fortuna avere incontrato Babic e abbiamo visto che facendo queste serate arrivava della gente che la pensava così che diceva cazzo che bello che fortuna poter fare delle serate così quindi inizia quella di saltare un po' l'anno zero della nostra community cioè gente disparata da vari luoghi è arrivata poi a un certo punto organizziamo uno di questi stream in un posto nuovo perché lì non lo potevamo più fare l'anno zero l'anno zero della nostra bromance guarda qua facevamo questo è questo è il last coin se non sbaglio è il montaggio fatto dall'esorciccio no esatto allora questo qua in pratica è l'ultima serata che abbiamo fatto in questo locale sì un anno fa perché il locale stava per chiudere definitivamente e anche se noi non facevamo lì più serate da un due o tre anni ci hanno chiesto di fare un'ultima serata per salutare il posto e allora mi sono organizzato con degli amici abbiamo portato una troupe perché questa roba qua la dobbiamo immortalare è impossibile farla su Twitch non ci divertiremmo altrettanto e allora l'abbiamo prima fatta immortalare da persone che hanno microfonato bene che hanno fatto le riprese fatte bene ma poi mi sono trovato con 300 giga di video che sapevo come montare e l'ha montato Francesco Bici un membro della nostra community che per puro caso fa il editing montaggio e cose magie simili di professione e ha fatto un lavoro fichissimo però appunto abbiamo iniziato il primo stream l'abbiamo fatto per promuovere una serata che avevamo organizzato al Wave un locale in Viet mondo di amici qua a Milano quella serata andò così e così ma notammo subito la differenza dello streaming uno che raggiungevamo un sacco di gente ma che la raggiungevamo in tutta Italia e quello era normalmente la lamentela più frequente ma perché solo a Milano queste cose e ne avevamo fatta una a Roma un paio a Roma ma è un casino organizzare una roba simile fuori dalla tua città è tutto molto complicato e quindi abbiamo notato che lo streaming risolleva tutti questi problemi tutti tutti questi problemi e quindi ci siamo presi benissimo e abbiamo iniziato e poi a un certo punto è iniziato a crescere tanto e ci siamo presi tanto bene e abbiamo pensato di avere qualcosa di buono tra le mani perché avevamo una community molto molto fedele più piccola di tante altre community ma innanzitutto molto molto mista e variegata non un sacco di ragazze gente più vecchia gente più giovane era un bel sample e abbiamo detto secondo noi questa roba qua per come sta andando lo streaming per come sta andando Twitch adesso ci stiamo divertendo un sacco ma un domani potrebbe essere una roba che è effettivamente un futuro e quindi ci siamo messi abbiamo investito un po' di più e abbiamo tirato in mezzo bellotta abbiamo deciso che volevamo aggiungere negli stream e quindi abbiamo io l'avevo conosciuto proprio a una serata al metissage tra l'altro lui se vai a vedere i nostri vecchi video su hitbox era nella chat e ci ho avuto a che fare perché lui lavorava al cern e mi aveva invitato a vedere il cern e a un certo punto ho detto ma senti ma perché non non fai uno stream prima è venuto a fare uno stream proprio qua come ospite ha fatto al fly al fly uno e poi gli ho detto ma senti vuoi provare a fare degli stream settimanali per noi uno dei motivi più stupidi che sapevo che mai avrei dovuto fare assistenza tecnica perché lo streaming è una roba comunque un po' impegnativa una cazzata però bisogna comunque saper smanettare un po' ho detto lui non dovrò mai sicuramente fargli assistenza tecnica ma anche perché è una persona con uno skillset che in alcune cose si interseca con quello mio di Babich tipo canta benissimo lui ma in altre va a beccare clamorosamente una coincidenza assurda la scienza senti le trasmissioni scientifiche di Kenobis esiste ancora c'è ancora quel periodo sta durando come no abbiamo le trasmissioni scientifiche di Kenobis ci hanno avuto un escalation abbiamo prima fatto due sullo spazio sì poi abbiamo tampinato il CERN tramite loro che ci cioè Bellotta ci lavorava ma Vittu e Collaterini ci lavorano ci lavorano ancora ci hanno a che fare ancora lavorativamente ci siamo fatti prima dare i materiali ufficiali del CERN e abbiamo fatto una serata in cui loro con tanto di lavagnetta spiegavano tutto come funzionava il CERN due ore di stream che se non sai com'è il CERN alla fine arrivi e ti sei fatto quanto meno un'idea e se te lo vai a riascoltare ti fai un'idea ancora più chiara dopo anzi secondo me sicuramente il momento più alto di Kenobi's Bush di quest'anno a un certo punto quei pazzi sono riusciti a farsi calcolare proprio dall'ufficio stampa del CERN che ci ha dato un pass stampa e sono andati a fare una live dal CERN durante gli open days in più col fatto che lavoravano là ovunque andavano non è che gli sparavano a fanculo li accoglievano così e a un certo punto sono riusciti addirittura ad avere il la password del wifi per entrare sotto dove c'era uno dei dove c'era il Linux credo acceleratore lineare e in quel momento avevamo tipo 3600 persone su Twitch anche perché lo stavamo facendo in inglese eravamo in vabbè comunque in quel momento eravamo tantissimi ho detto quando mai poteva succedere 5 anni fa che stai facendo una trasmissione dal CERN con gente di tutto il mondo che ti vede con tecnologia consumer con un telefonino montato su un gimbal è bellissimo questo è un gameboy non un telefonino però era l'unica roba nera e grossa che avevo in mano senti a proposito di robe piccole in mano aspetta che c'ho una cosa da fare assolutamente poi nella chiacchiera siamo andati subito avanti ma noi ogni volta chi c'è da walone facciamo una sorta di staffetta tra l'ospite della serata e l'ospite della serata successiva e la volta scorsa c'era Francesco Serino che ti ha fatto una domanda poi più avanti la farai anche tu all'ospite che sveleremo qual è della puntata successiva tu conosci già questa domanda adesso la facciamo la facciamo sentire anche ai nostri amici a casa allora la facciamo partire qua mettiamo anche l'audio sarà il prossimo l'ospite di lunedì prossimo una domanda quella che vuoi la domanda allora aspetta io non lo sento via me adesso no aspetta che accendo il microfono spengo il mio microfono posso parlare di quanto suoni bene un Game Boy nel senso Game Boy trasformato in un vero e proprio strumento musicale perché questo non accade con il Game Gear e se accadesse che suoni tirerebbe fuori il Game Gear Fabio ma che domanda meravigliosa ma cosa ok abbassare proprio netta e semplice direi credo che raramente nella mia vita mi abbiano fatto una domanda alla quale sono così preparato che livello di gira la rotellina di quanto vuoi una spiegazione dettagliata da 1 a 10 facciamo un bel 7 ok allora con il Game Boy la particolarità è che spoiler che non è malattivo nel senso che metti la cartuccia e tu lavori interamente sul Game Boy è un tracker è proprio un programma musicale che nasce e muore su Game Boy poi io ovviamente lo registro da qua lo registro lo mandi in un mixer e suoni in un locale oppure lo registri e ci fai un disco preordinate il disco mio di Andrea Babic che è nobit.bandcamp.com copertina di Lorenzo Ceccotti 8 tracce 4 mie 4 di Andrea Babic e dicevo con il Game Boy lavori su un tracker nativo mentre invece con praticamente tutte le altre macchine che sono presenti nell'era degli 8 e dei 16 bit non lo puoi fare lo puoi fare giusto sui computer dell'epoca tipo appunto Commodore 64 Atari ST la Miga lì potevi ovviamente lavorare sulla macchina ma su Mega Drive su Super Nintendo non ci sono software simili ci sono sul Game Boy solo perché qualcuno si è preso la briga di farli perché Nintendo non li ha mai fatti Nintendo fece giusto la Game Boy Camera che aveva dentro un rudimentale sequencer ma è un'altra storia però la musica che si poteva fare che veniva fatta all'epoca veniva fatta quindi la domanda come suonerebbe un Game Gear spoiler come un Game Gear suonerebbe esattamente come un Game Gear che vuol dire praticamente che suonerebbe PSG sia no come un Sega Master System più o meno c'è modo di usare un Game Gear o un Master System o un Mega Drive o un Super Nintendo o un PC Engine per fare musica assolutamente sì ma non si lavora con dei tracker nativi per la console per la macchina si lavora molto spesso con dei tracker su PC tipo Defle Mask un tracker molto usato per queste cose e a quel punto tu componi scrivi secondo le specifiche della macchina togli salvi il tuo file sul PC lo carichi su un cartuccione e a quel punto lo puoi suonare sull'argo originale è un po' più macchinoso e soprattutto ti dà molta meno flessibilità che è uno dei motivi per cui il Game Boy è così amato e affermato nel mondo della C2 dal vivo Fabio domanda walonica quante persone appassionate di CipTune come ascoltatori credi di poter contare cioè che conosci che conosci che conosco è una domanda che conosci cioè tipo ah so che questo ragazzo che è venuto magari a un due o tre miei concerti è un grande ascoltatore allora se te li devo chiamare per nome no 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 anche so che esiste questa persona nel mondo posso ho delle prove cioè allora secondo me così su due piedi con cui sono entrato in contatto io i veri fan della CipTune ce ne sono 500 che se c'è un concerto vanno e la apprezzano e ce ne sono 300 che sono azzeccatissimi a ruota di CipTune anche senza frequentarla proprio loro come cioè creatori come musicisti di CipTune no come musicisti un po' di meno sì ah ok quindi questi sono proprio solo gli appassionati sì allora una cosa che mi piace della CipTune è che ai concerti c'è sempre lo zoccolo duo perché alcuni c'è gente che si prende aerei che si fa delle elevatacce pazzesche quelli ci sono sempre a seconda di dove sei in Europa ovviamente c'è più o meno un range o anche in America o anche in Giappone poi oltre a loro ci sono anche dei curiosi che arrivano e alcuni si appassionano alcuni semplicemente si divertono si incuriosiscono e diventano un pubblico più casuale cioè diventano un pubblico che magari sa cos'è la CipTune semplicemente e di quelli lì invece ce ne sono migliaia perché comunque sì nel corso degli anni tanta gente tanta gente ai concerti ma anche solo a Milano l'ultimo Milano CipTune Underground che abbiamo organizzato che l'ho organizzato io e a Rottenbit che è un altro mio fratello negli 8 bit e abbiamo fatto 1500 ingressi 1500 persone lì venute apposta a vedere la CipTune alcuni perché interessati all'argomento altri perché capitati lì perché volevano andare a Macau quella sera a vedere cosa c'era come sono in generale i concerti come è il dai raccontaceli un po' dal tuo punto di vista ah è una domanda sfiziosa ci sono tre tipi di concerti di CipTune in generale ci sono quelli fighi evento con uno sponsor o evento cioè tipo vai a suonare alla festa di Unity piuttosto che vai a suonare a una festa alla GDC piuttosto che ti invita una roba di sport a suonare ecco quelli sono dei il contesto un po' più assettico la fiera quelle robe lì e sono io li vedo un po' più come degli showcase perché sono dei posti in cui suoni e sei l'intrattenimento ma non è gente che è venuta lì apposta a vedere quella roba lì è gente che è andata a un evento è andata a qualcosa e tostasera c'è questo fatto che c'è un concerto dei Game Boy vediamocelo è divertente quella cravatta l'avevo costruita io tra l'altro questo mi piace da morire perché è anche un po' cartonato e sai quanto mi piace c'è il genere cartonato il primo concerto i concerti quelli lì un po' corporate che sono i miei meno preferiti poi ci sono i concerti organizzati dalle persone dai membri funzionanti della società quindi in dei locali che magari è un circolo arci piuttosto che all'estero capita molto spesso in dei locali piccole discoteche pub organizzati così e questi concerti qua sono sempre un'incognita perché alcuni li sanno fare bene fanno delle figate quindi non lo so vai a suonare al Superbyte sto indossando la maglietta del Superbyte per caso totale e vai a suonare al Superbyte è una roba fichissima in un locale grosso con mille persone mega casino ma magari a volte ti invita quello a Norimberga che lo fa in un posto più piccolo si sa promuovere peggio e invece che 500 persone ce ne sono 30 però quelle 30 sono comunque i 30 azzeccati di Chiptune e quindi anche in quei casi sono dei concerti molto belli poi c'è il mio tipo di concerto preferito che è quello creato dai membri non inseriti nella società che poi sono quelli che organizzo io anche che sono nei centri sociali centri sociali spazi occupati che è una cosa che cambia molto a livello nazionale tipo in Giappone questa scena non esiste del tutto perché che io sappia non ci sono squat e spazi occupati in America anche non va così e infatti la scena un po' ne risente qua in Europa invece abbiamo molti centri sociali in Italia in Spagna in Germania tutti con dei flavor diversi tipo in Germania li chiamano alcuni house project alcuni li chiamano squat alcuni li chiamano centri sociali alcuni sono autogestiti alcuni non sono occupati insomma è un mondo particolare ma di gente con la quale io mi sono trovato estremamente affine soprattutto allora è facile darmi della zecca me ne rendo conto ma soprattutto a livello di etica su un tot di cose sono dei posti dove banalmente il Game Boy veniva amato perché c'era condivisione del sapere cioè mi dicevano vieni a suonare e fai un workshop prima quindi io andavo lì pomeriggio facevo un workshop in cui insegnavo a usare il Game Boy e e poi la sera suonavo quindi loro tenevano molto a questa diffusione delle informazioni e soprattutto hanno un ambiente estremamente inclusivo che si sposa molto bene con la Chiptune e soprattutto hanno un pubblico di scoppiati meravigliosi nei quali mi iscrivo che amano le sonorità e i suoni inaspettati quindi sentono una roba bizzarra non solo dicono ah che sfizio il suono 8 bit se ne appassionano e vedono quello che è un po' il livello successivo ed è un motivo per cui mi diverto tantissimo a fare i concerti nei centri sociali che è la terza tipologia i concerti nei centri sociali sono matti vuoi un racconto matto di un concerto in un centro sociale certamente ne voglio uno e mezzo allora fermo restando che nel 99% dei casi non sono ambienti estremamente sicuri che ti sto raccontando l'unico caso in tutto mi piace la premessa no 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 perché è una premessa forte e proprio sono normalmente dei luoghi ragionevolmente sicuri dove ti senti al sicuro sei contento e c'è tanta gente e sono tutti contenti una mia amica che si chiama Olya Levistova che ha un come nickname nel mondo chiptune si chiama Oliotronics che se non sbaglio lei è della Lettonia o dell'Estonia comunque è originaria di un di un paese del blocco dell'est e organizza lei un po' sempre in giro per l'Europa e ogni toto organizza un festival che lei chiama Glitch con tre E e dove invita molta gente chiptune e anche altra gente così quella volta lì lo organizza ecco lei Olya lei è matta come una cappellaia ed è fantastica è ha una testa per la tecno che non avete idea e è fantastica è veramente meravigliosa organizza questo concerto in un in un ex pub occupato del negli stand a Londra e il posto era fichissimo era messo era proprio un pub tu immaginate un pub quindi con un pian terreno un giardinetto fuori e uno scantinato ovviamente si suonava nello scantinato e con un impianto sovradimensionato con le macchine del fumo ed era pieno traboccava di gente e io ho detto qua ci ammazziamo tutti perché siamo in 300 in questo spazio dove dovrebbero esserci 60 persone l'unica uscita è una piccola scala con una porticina così c'è un impianto con cavi elettrici in bella vista ci sono le macchine del fumo tutti stanno fumando sigarette e quant'altro qua finisce male fatto sta che non mi faccio menate la situazione era molto divertente e suono tra l'altro poi ti posso trovare un video esattamente di questa serata un video di prima che andasse tutto a ramello e suono faccio il mio faccio il mio concerto e a un certo punto mi interrompo perché sento puzza di bruciato e effettivamente una delle tipe dello squat mi fa sta andando un attimo a fuoco la macchina del fumo spegniamo un attimo la corrente e poi ricominciamo va bene faccio il mio concerto tutti presi bene a quel punto ero molto contento di essermene fregato perché in quella stanza c'era una una carica pazzesca e alla fine ho detto ma facciamole queste cazzate ogni tanto però ho comunque la presenza di spirito finito di suonare di prendere i miei gameboy io ho un ho questa scatola della merenda che ho preso piena di gameboy nella quale tengo i miei gameboy i miei gameboy ma quante persone al mondo possono dire i miei gameboy con del senso e io li ho presi perché sono la cosa più importante che ho veramente cioè quasi tutto quello che ho è sostituibile i miei gameboy sono i miei gameboy cioè ci farei veramente una malattia se li perdessi quindi li metto via metto via le mie cassette metto via i miei gameboy metto via i miei cavi mi metto lo zaino prendo una birra e vado fuori nella parte di giardinetto a prendere una boccata d'aria nel frattempo sto bevendo la mia birra lì fuori e sento due tizi inglesi che iniziano a prendersi a male parole ahhh ti ammazzo ahhh c'era una ragazza c'era una donna di mezzo inglesi ubriachissimi iniziano a fare a botte e dici vabbè ti sposti un attimo vedi che tanto sono degli ubriachi arriveranno gli amici li toglieranno così sono arrivati gli amici e la situazione è degenerata tipo Bud Spencer e Terence Hill nell'arco di dieci minuti uno rompe la bottiglia ti ammazzo ti ammazzo iniziano a volare sedie arriva tutta la gente fatto sta che inizia a esserci una rissa pericolosa dentro tutto il locale io rimango fuori e dico dobbiamo andare via di qua perché comunque siamo in uno spazio occupato adesso arriverà per forza la polizia io non ho fatto niente di male però è un casino provo a uscire provo a uscire entro mi passa una sedia tanto così dalla testa dico va bene facciamo che aspetto fuori fatto sta morale è arrivata la polizia lacrimogeni hanno fatto evacuare il posto perché nel frattempo uno dei due ragazzi si era preso una coltellata ambulanze strada chiusa e così questo è stato questo è l'aneddoto più pazzo che mi sia capitato ma non è la norma no la norma è che tu vai in un posto ed è la forma e del modo di viaggiare più bello che mi possa immaginare perché arrivi vieni preso da dei ragazzi delle ragazze del posto che ti accolgono e ti vedi solitamente arrivi la sera prima e quindi ti vedi la città che non è la tua città con la gente del posto quindi ti portano a bere una birra in un posto carino ti portano in un posto dove non saresti mai andato ti portano magari a un altro concerto cioè vedi la città non da turista e poi vai lì vai lì suoni tutti si divertono e torni a casa tardissimo magari dopo essere rimasto anche a pulire per terra e via Fabio una cosa che secondo me molti che vabbè tra quelli che non ti conoscono ancora che stanno seguendo così si chiedono allora di tutte queste passioni che vivi in modo abbastanza intenso quali sei riuscito o stai riuscendo a trasformare in qualcosa diciamo che possa magari diventare un lavoro o magari è già diventato un lavoro nel senso che ti ci sostieni allora questa è una tipo a che punto siamo con Twitch a che punto siamo con la cittune i concerti allora aspetta che innanzitutto ti mando un messaggino in chat con il link di quella serata degenerata a male forse lo puoi mostrare così ma allora è una questione un po' particolare perché io ho contato un po' di tempo che se fossi matto e se fossi magari da solo invece che sposato e potessi fare tutto sulle mie sapendo che qualunque cazzata faccio cadrebbe sulle mie spalle è da un po' di tempo che potrei tecnicamente vivere di musica e Twitch però vorrebbe dire lasciare il mio lavoro sicuro di traduttore e di cui tra l'altro tra un attimo parleremo anche e quindi trasformare la la situazione di estremo relax in cui mi trovo adesso in una cosa che è effettivamente un lavoro perché probabilmente se Twitch e la musica fossero la mia unica fonte di sostentamento se dopo un concerto non vendo dieci dischi ci rimarrei male o comunque mi stresserei perché saprei che dovrei vendere dischi per riuscire a sbarcare in lunario invece così con le traduzioni lo ammetto sono un po' un paracadute un paracadute che mi piace molto che mi arricchisce che mi diverte e che mi fa stare nel settore dei videogiochi quindi avercene però appunto è una roba è un po' il mio piano di emergenza no non il mio piano di emergenza è un po' la base e non sarà facile mollarla ma è una cosa che credo che succederà nel mio futuro spero ok allora parliamone un po' di allora intanto come avrete notato ragazzi ci siamo spostati alla chiacchiera come momento della serata ma in realtà come ho detto all'inizio succede spessissimo che l'ospite e la chiacchiera come momenti della serata vadano a fondersi insieme comunque siamo nella chiacchiera parliamo un po' di come oggi lavorare nel settore della localizzazione dei videogiochi tu tu l'hai presentato diciamo un po' magari non in un modo come dire spettacolare perché l'hai fatto sembrare un po' la cosa che fai come lavoro serio rispetto a quello che ti piacerebbe che diventasse mi sento un privilegiato di poter di poter fare questo discorso esatto come lavoro serio non è male alla fine no? non è non è male però anche no no allora quali sono le parti noiose le parti fighe dai allora le parti fighe hanno paradossalmente meno a che fare con i videogiochi di quanto ti aspetteresti per me la parte fighissima è che ho continualmente il polso dell'evoluzione della lingua e perché i videogiochi e dell'inglese in particolare però tenendo sotto controllo l'evoluzione della lingua così da vicino noti subito le nuove cose che si stanno fermando le nuove tendenze perché dalla lingua dipende tutto secondo me e quindi cioè io banalmente traducendo i videogiochi ho visto con ho visto al rallentatore e in anticipo un cambio diffuso di sensibilità che c'è che c'è nella società in questo momento e che continua a fare parlare che sia me too equality eccetera io tutte queste cose quale ho viste un po' al rallentatore nelle traduzioni di videogiochi anche prima che se ne parlasse perché vedevi che a un certo punto usano una parola diversa a un certo punto la roba che fa ridere è questa a un certo punto si afferma questo meme si afferma questo modo di dire questo modo di fare questo modo di usare i pronomi ma queste sono robe serie ma anche ci sono le cazzate cioè i tormentoni i i concetti la parola iit come i che io vorrei sempre tradurre come iettare però non si può però cioè non si può nessuno me l'ha ancora fatto fare però io continuo a provarci ma tu ne sei prese non di libertà diciamo però hai proposto un sacco di volte qualche traduzione un po' più stravagante che però assolutamente ma allora il mestiere secondo me il mestiere del traduttore è quello è tradurre non con il freno tirato nel senso non devi tradurre pensando ovviamente non devi scrivere delle cose delle schifezze delle robe sbagliate sconvenienti così ma tu come traduttore non devi puntare cioè almeno questa è la mia visione non devi puntare alla traduzione pulitina che è un po' come senti sempre più spesso parlare nei film che io lo chiamo il doppiatorese il traduttese voglio che la gente parli in una maniera da mondo reale quindi invece che fare la scelta conservativa secondo me il traduttore deve dire ma senti io qua ci metterei a punto voce del verbo iettare in questo contesto e poi sta a tutta la parte che c'è dietro il traduttore che è altrettanto importante il traduttore è dal primo afflato creativo ma poi dietro c'è una persona che rilegge c'è solitamente una terza persona che vede cosa è stato cambiato dalla persona che ha riletto e decide se tenere la versione del traduttore o la versione corretta oppure se dire raga parliamo di questa roba perché avete due idee interessanti cioè c'è un grosso lavoro di dialogo nella traduzione cioè nella localizzazione e secondo me il traduttore vero e proprio deve parlare con tono convinto in questo dialogo non bisogna tirare il freno il che vuol dire spesso fare delle scelte audaci tipo mettere una supercazzola dentro la introduzione di Far Cry Blood Dragon per esempio per esempio esattamente guardi in chat hanno citato CPU prima a destra che no abiti in Far Cry Blood Dragon è esattamente così nel gioco c'è anche su YouTube se non sbaglio quel pezzo lì oppure fare parlare in in abruzzese un personaggio dell'avventura nuova di quello di Monkey Island Ron Gilbert io ho avuto il privilegio totale di tradurre Thimbleweed Park altra cosa che tra l'altro mi ha avvicinato a Bellotta e mi ha fatto lavorare anche con un'altra persona molto amica di GN Stefano Talarico Nabucco Nabacchio io ho tradotto il gioco l'ho fatto rileggere a Bellotta e a Nabu però appunto c'è molto spazio per tante scelte audaci per tante soluzioni è un lavoro creativo è un lavoro creativo e che se fai con passione rende il testo il parlato il copione lo spirito di un gioco una cosa anche anche un po' tua e la parte noiosa guarda ho un esempio bellissimo della parte noiosa che a volte traduci un copione interessante scritto bene così a volte magari traduci un copione scadente che è come leggere un libro brutto ma ancora ancora quello va gira perché puoi comunque comunque è come leggerti una storia ma se avete giocato a uno qualunque dei giochi degli ultimi dieci anni i mondi di gioco anche se non si parla di open world sono molto più chiacchieroni cioè tu vai se investi uno in in gta in far cry in qualunque gioco ti ti cristiano dietro oh che cazzo fai attento mi stai investendo e così ci sono nei giochi moderni decine e decine di questi personaggi che ovviamente devono poi avere tantissime battute in modo che non non ci sia come dire una costante ripetizione cioè se tu senti sempre le stesse tre frasi ti rompi le palle quindi fanno per questo motivo migliaia e migliaia e migliaia di frasi con una trentina quarantina cinquantina di personaggi diversi che però hanno tutte un campionario di dieci trenta quaranta cinquanta frasi per ogni situazione del gioco che è il giocatore ti viene troppo vicino oh stami lontano gira la larga stai alla larga lasciami il mio spazio oh bello lo spazio personale lo sai che cos'è devi inventarti anche perché tu ce li hai in inglese ma in italiano non funzionano cioè devi usare delle espressioni equivalenti ed è una roba alienante perché ci sono in continuazione e che tu diventi sinonimo di te stesso al tempo stesso non devi nemmeno parlare come un folletto quindi devi comunque parlare in maniera realistica ecco lì capita cioè magari di un gioco dicono ok il copione sono centomila centomila parole e poi ci sono ste trecentomila parole di chatter generici e sono abbastanza io ho amato alla follia blood dragon perché blood dragon prendeva in giro questa cosa perché tra le altre volte questi chatter devono avere una un elemento riconoscibile in modo che comunichino effettivamente un certo evento di gioco quindi succede la roba meno realistica del mondo granata la gente che tira granata che urla granata e lancia la granata cioè come come se io ogni volta che vado sul water dicessi cacca non si fa non lo fa nessuno nel mondo reale e non prendeva tantissimo per il culo questa cosa dicendo se non urlate granata quando lanciate la bomba non esplode tutte robe simili quindi questa parte qua di tradurre i chatter è una roba che ti consuma l'anima da dentro è anche il punto dove nascondi però a me in realtà cioè risulta affascinante sta cosa anche di trovare tutte frasi anche poi leggermele di fila 12 frasi diverse per dire la stessa cosa ma 12 no sono solitamente in gruppetti da 10 15 che si alternano tipo prima le bombe poi ricarico ho fissi proiettili sono secco poi col fatto che il videogioco ha modo magari di prevedere se tu protagonista sei un maschio o una femmina in molti giochi succede ma non ha modo di prevedere con chi parleranno i personaggi di questi chatter quindi devi pure adottare delle soluzioni o te ne freghi e fai il sessista cosa che non faccio mai oppure ti devi inventare delle traduzioni gender neutral e io lo faccio non per una questione di equality ma per una questione di estetica cioè se un personaggio assolutamente è bruttissimo a una femmina è brutto da vedere è bruttissimo ed è il motivo per cui negli insulti dei videogiochi hai un sacco di pezzi di merda hai un sacco di teste di cazzo perché sono una roba neutra e hai poche hai pochi stronzo stronza bastardo bastarda almeno nei giochi che faccio io sì giusto giusto senti ci sono no no questo lo vediamo dopo il gioco che hai tradotto che ti ha dato più soddisfazione è proprio Timberweed Park ce lo siamo bruciati già un po' con la cosa allora no paradossalmente il gioco che mi ha dato più soddisfazione allora Timberweed Park ha un suo fascino perché l'ho fatto tutto io ed era relativamente piccolo era un gioco da 80.000 parole che ho tradotto in uno stato anomalo ossia con il gioco in mano è una roba che non viene mai fatta perché proprio per una questione di sicurezza immaginati che uno ti manda Metal Gear Solid 5 dall'altra parte del mondo a un traduttore che magari il giorno dopo lo rivende è un danno economico enorme mentre invece nei giochi indie è tutto molto più rilassato e capita molto spesso a volte di poter tradurre con il gioco in mano io in quel caso avevo un caso benedetto avevo tempo per tradurre non avevo molto da fare perché mio nonno ero appena mancato e mi ero preso un mese sabbatico e il giorno dopo mi suona la tele mail di Ron Gilbert mi fa mi traduci il gioco e dico vabbò è destino lo faccio quindi non avevo niente da fare ero durante le feste avevo giocato tutto il gioco traducevo con il gioco a fianco e dopo che l'ho tradotto ho avuto modo di rigiocarmelo tutto a giro più volte e di farlo giocare a degli amici quindi quello lì per me è una bomboniera nel senso che è un lavoro forse irripetibile perché è una roba che ho fatto a livello di traduzione interamente da solo quindi tutte le scelte importanti erano mie e che ho potuto anche rifinire in base a come vedi il gioco quella lì è una roba che non succede praticamente mai ma di roba di cui vado più fiero è Far Cry Blood Dragon perché quello lì invece l'abbiamo fatto come si fanno i giochi normalmente quindi senza il gioco avendo dei video avendo a disposizione una linea aperta con gli sviluppatori per chiedergli lumi su alcune cose ma il gioco non lo vedi e non sai nemmeno cosa andrà a finire nel gioco perché magari a volte alcuni dialoghi vengono tagliati alcune parti vengono spostate troncate Blood Dragon mi fanno divertito tantissimo era scritto anche un gioco un po' nelle tue corde come estetica come spirito poi ci hanno detto è un gioco pieno di citazioni anni 80 sentitevi liberi di aggiungere le vostre citazioni anni 80 perché molto probabilmente alcuni riferimenti americani a voi mancano non ci sono e quindi ne abbiamo messe di tutti abbiamo messo le supercazzole nella intro abbiamo l'abbiamo fatto doppiare a quello che aveva fatto la voce di Kenny Guerriero nel lobby di di Ken avevamo messo citazioni matte a tutto c'erano dentro i dit Fiba che non mi piacevano nemmeno però ci stavano bene tutta una serie di di cose oltre al fatto che era scritto da Dio e quindi si prestava molto a essere adattato in un modo bello cioè proprio funzionava bene questo è il gioco che cioè secondo me è il lavoro di traduzione migliore che ho fatto e tra l'altro ho fatto con soci in sintesi di sempre l'ho fatto con Nilo Nastasi che è una persona fortissima nel settore con una rilettrice che Luisa Reina bravissima anche lei perché comunque queste robe qua c'è anche un lavoro simile a un dialogo perché dici ah ma qua mettiamoci questo no dai questo è troppo forte ma se ci mettessimo questo così quindi questa è la traduzione secondo me e poi di giochi e recentemente ho tradotto invece quella è una soddisfazione più a livello professionale ho tradotto NeoCab un gioco molto meno famoso ma nel quale ho avuto modo di fare un po' di sperimentazione con la lingua e quindi immaginando un'evoluzione della lingua italiana nel futuro in un'ottica inerente a un problema che mi sta particolarmente a cuore che è quello della 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 parità di genere dei diritti LGBT della awareness LGBT è un tema che mi stava molto a cuore gli sviluppatori ci hanno detto che uno dei personaggi era non binary quindi non si identificava in nella binarietà dei generi e quindi mi ha detto la protagonista che vuole bene usa i pronomi neutri per lui lei e mi dice usate per favore i i pronomi neutrali neutri in italiano e io che stavo lavorando con con glock che è un team molto bello di traduzione a questa cosa abbiamo detto beh ragazzi i pronomi neutri non ci sono ma visto che eravamo in un futuro cyberpunk invece che arrenderci al fatto che non c'è il neutro in italiano ce lo siamo visto che ce l'avevano chiesto gli sviluppatori quindi era un atto di coerenza narrativa poi ovvio uno ci può vedere anche uno statement politico se vuole però anche degli sviluppatori ma di fatto era un un atto di coerenza nei confronti della visione degli autori perché rispettavamo un dato del loro personaggio quindi abbiamo inventato un genere neutro in italiano praticamente con la schwa una soluzione ho scritto ma questo è fighissimo su Outcast su questo e questa è una roba di cui vado invece molto fiero a livello ma infatti è una figata spaziale sta cosa ne sono molto contento perché è una roba che per i motivi di qui sopra c'è una riflessione che mi ha fatto arrivare proprio tradurre i videogiochi che ti obbligano a porti il problema se la frase che stai pronunciando è maschile femminile o neutra che poi è una roba uno dei motivi per cui voglio benissimo a Kenobisboc e voglio bene benissimo ad Andrea Babic è che di questa cosa non abbiamo mai parlato io e lui ma indipendentemente abbiamo iniziato a usare un linguaggio neutro nei nostri stream nel senso la lamentela frequentissima vecchia come i CQ è che non ci sono ragazze nel mondo dei videogiochi ed è una stronzata non è assolutamente vero ho pensato non ci sono ragazze nel momento in cui dai per scontato che il tuo pubblico sia fatto di maschi e ti rivolgi al pubblico come tale e quindi invece che qua siamo su Twitch invece che dire grazie per esserti abbonato che è un maschio basta dire grazie per l'abbonamento certo tra l'altro un sacco di nickname alcuni sono chiaramente maschili o femminili ma altri non lo puoi sapere assolutamente certo e quindi noi come non è neanche una convenzione linguistica che ci siamo dati perché è una roba che abbiamo iniziato a fare io e Andrea Babic Yucali Katia ci ha raidato grazie 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 per il ride Yucali grazie anche le amiche e gli amici di Yucali esattamente io per quello abbiamo la fissa amiche e amici è giustissimo perché non voglio dare intorno alla nostra community cioè a un certo punto la community ha iniziato a essere così fertile che ha iniziato a fare cose cioè gente che prima seguiva e basta lo stream ha iniziato a fare degli stream suoi e quindi abbiamo pensato che visto che era molto bella questa cosa e visto che vogliamo un Twitch tra virgolette più a nostra immagine e somiglianza nel senso anche lì non puoi lamentarti che c'è solo Fortnite su Twitch se poi non fai un cazzo e quindi abbiamo raccolto un pochettino abbiamo fatto una donata di streamer affini molti dei quali orbitano nella nostra community e abbiamo abbiamo fondato azione catodica come tubo catodico non non catodica azione catodica molto bello ed è diventato una bella alleanza di canali che non tutti necessariamente fanno retro gaming ma che hanno un certo tipo di visione della community e yukali che ci ha appena raidato è una delle nuovissime membre di azione catodica fantastico ottimo ho linkato il suo canale in chat se volete andare a sbirciare bella bella che bello che bello è il twitch civilizzato assolutamente io sto di un bene in queste serate mi diverto tantissimo no no ma poi l'atmosfera esatto della chiacchiera di questa sera anche la chat molto molto siamo gentil nerd esattamente video bigini esattamente nonostante siamo entrambi febbrati io ho la febbre e anche tu mi dicevi che hai la febbre uguale giusto? no 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 spero di no spero di no spero di no ecco la cosa figa del digitale che tu non puoi passarmela c'è solo un leggerissimo principio ma spero proprio di no allora facciamo una piccola parentesi al ritroso ci hanno chiesto di ascoltare qualcosa della tua musica senti io ho qui davanti questo fugue in chip minor è una roba che può essere interessante la mettiamo dai ce la sentiamo un secondo vediamo com'è mi piace anche il video tra l'altro il video l'ha fatto poi ti dico chi l'ha fatto grazie a tutti 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 questo qua è un video fatto da Valerio Carradori in arte turbo gamma molto più giovane di me però che si era preso bene per la chiptune in tempi non sospetti e mi ha voluto fare questo video che si è era infissa con l'estetica dell'ecractro del Commodore 64 allora poi vedete lì è la copertina del mio disco vinile che sta suonando e lui ha fatto questa finta cracktro di Ken Hobbit e la credo che l'abbia fatta in non con un Commodore ma l'abbia fatta con un editor sì anche perché non ha non ha quella rivoluzione Commodore ma lo stile era quello e la allora cracktro è una crasi tra crack e intro ed è praticamente l'intro che avevano i giochi per Commodore 64 ritrattati da altre persone non non gli originali ok ed è una figata già avere in me aspetta hai detto che Valerio Corradi scusa si chiamava giusto Valerio Corradori Valerio Corradori facciatelo come Turbo Gamma Turbo Gamma Turbo Gamma era in scimmia per le cracktro del Commodore 64 a chi non è su chi non ha mai avuto la fissa sulle cracktro scagli il primo flop è fantastica questa cosa cosa è bellissima ecco questo secondo me è il tipo di nostalgia che descriveva prima all'inizio della trasmissione Fabio quando diceva sì ma la nostalgia non è necessariamente quella di ti ricordi Ghost and Goblins ti ricordi Bubble Bubble eccetera eccetera la nostalgia è la nostalgia delle cracktro per Commodore 64 allora guarda adesso faccio un tentativo di far di suscitare la nostalgia nella chat vediamo se funziona sì sì nostalgia è la musichetta che partiva quando facevi partire la crack di Crysis questo è ovviamente ovviamente tutti possiamo negare di avere sentito le crack le musichettine delle crack la musica dei keygen i keygenerator tanto che c'è la parte dopo della cracktro music è nota come keygen music e quella lì è nostalgia quella lì sono delle robe che inaspettatamente ti fanno scaturire la nostalgia assolutamente ce ne sono tante senti voi con la non recente però neanche diciamo che esiste da sempre fissa per il real hardware questo è stato uno step evolutivo della vostra passione per il retro gaming su canobisbo all'inizio eravate usavate salvo rarissimi casi salvo rarissimi casi esatto e poi a un certo punto mi sembra che se non è real hardware non ci piace cioè è una roba che hai due cabinati dietro di te che ci dici cosa sono perché secondo me da queste informazioni vengono fuori già delle robe interessanti neoturfmasters con un neo geo e qua c'è bubble bubble adesso li spengo se no fanno un casino mentre andiamo anche bubble bubble fa buon buon il numero delle bolle allora in realtà il real hardware è la grande intuizione di babbic è colpa di babbic ed è merito di babbic nel senso che è colpa nel senso che è un casino una roba più costosa più complicata certo ma noi abbiamo un motto in Kenobisbo che è real hardware real problems real feelings perché hai l'hardware vero hai dei problemi veri che ti capitano inevitabilmente ma hai i sentimenti veri ed è iniziato con una serie di video che si chiamano la partitina miei e di Andrea Babbic che non erano ancora su twitch non avevamo modo di farli in tempo reale e la partitina eravamo noi che con un intricato sistema di specchi e leve molto meno sofisticato di quello che usiamo oggi riuscivamo a giocare con le schede da sala giochi tipo questa questa qua è una mia grande gioia l'ho appena presa questa è una scheda originale di Green Bay ecco ecco queste sono le cose questa è la roba di Kenobisbo le schede dei videogiochi riuscivamo a darle in pasto a OBS e quindi a registrare dei video ciao sono Andrea Babbic ciao questa è la partitina eccolo qua sì e giocavamo con le con le vere schede e il vero hardware abbiamo visto che c'era un che di magico perché comunque se c'è una roba che mi ha insegnato Twitch e internet è che la presenza non è una roba fisica ma è un concetto quindi anche se non cambia niente a livello di immagine tra un emulatore e il gioco grabbato dall'hardware vero la presenza dell'hardware anche se non è tangibile si percepisce e come il fatto che l'esempio che faccio è che adesso ci stanno ascoltando perché siamo qua dal vivo quando ci ascolteranno su YouTube sarà lievemente diverso sapendo che sta succedendo in differita quindi a livello di informazioni uni e zeri veicolati dallo schermo non cambia niente tra adesso e tra due anni su YouTube ma per chi è qua in questo momento c'è una differenza quindi la presenza su internet secondo me è un concetto assolutamente bello questo fatto stai vedendo che c'è quella scheda lì in questo momento sta buttando fuori questo segnale tra l'altro più sporco più problematico più vero di quello di un emulatore rende il tutto un po' speciale e il fatto è che io sono convinto che si percepisca anche in remoto ma è una roba estremamente diversa per noi cioè c'è un piacere così più immediato nel giocare con la macchina vera come era concepita nel proprio vivere i tempi di caricamento non avere i salvataggi non avere niente è diverso cioè rende le serate che abbiamo iniziato a fare in real hardware con il Commodore 64 per esempio sono tutte più divertenti per noi ci divertiamo di più noi e quindi inevitabilmente lo stream piace di più poi succede anche una roba che ogni tanto non funziona qualcosa e anche il fatto che qualcosa non funzioni è real hardware ed è una roba da preservare nell'ambito del retro gaming nel senso io dico usiamo ovviamente non dureranno per sempre queste macchine e infatti noi stiamo già guardando al futuro del real hardware dopo la morte delle macchine che sono gli FPGA se non sapete cosa sono gli FPGA vi consiglio un video di Bitbang dedicato proprio all'FPGA in cui il nostro dipartimento di ricerca sviluppo e feticismo che sono Bellotta e Ikeno Svizzeri parlano di questa nuova tecnologia che non è cioè è emulazione per certi versi ma per altri real hardware interessante comunque appunto noi teniamo molto finché queste cose esistono a raccontarle e a condividerle e inoltre appunto su Twitch piacciono le storie e anche il Mega Drive che non funziona è una storia anche il gioco che si pianta è una storia assolutamente assolutamente no bello bello questo fatto e sbattimenti si sopportano cioè nel senso è aumentata la quantità di cose da fare prima di iniziare una live o da tenere in considerazione eccetera al di là del fatto che qualcosa può andare storto eccetera perché è real hardware però anche solo preparare per far andare bene comunque richiede un po' di sì ma all'inizio è stata una roba devastante perché all'inizio era una grande fatica anche soprattutto per trovare avere il segnale buono recuperare il materiale capire che mod avere capire che cassetta prendere capire che cavo prendere capire come c'è stato un sacco di lavoro all'inizio e adesso tutto sommato una roba che sappiamo fare e che diventa complicata solo quando introduciamo una nuova macchina però siamo smanettoni nel cuore e ci divertiamo anche questo qua è Putan il clone tra l'altro il regalo ti permette di raccontare queste cose questo qua non era Pujan l'originale era la versione bootleg di Pujan che aveva una lettera diversa nel titolo si chiamava Putan e questo è Putan invece che la maialina invece che Pujan la maialina che salva i suoi cuccioli non si chiama Pujan si chiama Putan senti Fabio quanti giochi hai conosciuto secondo te da quando avete iniziato a streamare roba di retro gaming molti più di quelli che conoscevo in partenza io credo di avere più che raddoppiato il numero di giochi a cui mi sono esposto anzi noi abbiamo un collaboratore amico del canale fantastico si chiama Combo Completa che ha tenuto un registro su Excel di tutti i giochi che abbiamo giocato e in quali serate quindi io in questo momento ti posso dire anzi magari questa roba è malatissima posso dire a quanti giochi diversi abbiamo giocato dall'inizio del 2017 questa roba è fantastica e quante volte ti posso dire quante volte ho giocato in stream a Green Beret o confrontare ogni tanto lui è l'uomo delle statistiche ogni tanto ci dice con lo stream di oggi Babi ci ha suonato il piano più volte di quante volte che Nobbit abbia No ma chi è questo pazzo criminale fantastico è bellissima sta cosa è veramente bellissimo io adoro le statistiche fatte così io le amo e non avrei mai la costanza eccolo Combo Completa Combo Completa Caraibi Caraibi Combo Completa 2017 abbiamo giocato 2246 giochi diversi fantastico ne conoscessi tanti di giochi non potevo conoscere tutti quelli che sono adesso no è impossibile assolutamente infatti impossibile sicurati che all'inizio quando abbiamo iniziato a fare questa roba io e Babi ci pensavamo vabbè ma a un certo punto finiremo i giochi perché pensavamo la ingenuità che funzionasse solo la roba bella famosa con un certo ritmo e invece no una volta su Commodore 64 abbiamo streamato un programma che ti dava il bioritmo di Zenga di Walter Zenga nell'89 90 Commodore 64 che in base a dati completamente fuffa ti dava il bioritmo di Zenga meraviglioso ecco comunque si diceva di Green Beret stanno dicendo Green Beret è tipo il tuo gioco preferito perché anche a me è capitato un sacco di volte di vederti giocare a Green Beret come il livello che mi piace Green Beret è che questa è la scheda originale Konami del gioco e l'ho comprata quindi l'ho comprata aspetta un attimo perché l'ho comprata come cazzo si compra una roba del genere allora ti devi infilare nei meandri più loschi e brutti di internet avere a che fare con una scena che non mi piace per niente c'è un sacco di gente poco trasparente c'è un sacco di persone che trovo sgradevoli ci sono delle persone splendide ovviamente ma non amo il mondo dei collezionisti di schede c'è un boh non mi piace non questa qua l'ho trovata su ebay perché poi ovviamente ci si inizia a conoscere i giri sono tanti i mercatini ebay ti capita un link da qualche parte così e queste robe succedono e dico questo qua è successo perché Babich mi fa Fabio c'è su ebay la pcb originale di green bar in realtà questo è rush and attack la versione americana di green bar bella bella pulita pulita con il logo konami vecchio che ti piace tanto a un prezzo onesto non vuoi dire quanto era questo prezzo onesto quant'è questo prezzo onesto questo l'ho pagato a 90 euro che è veramente per una scheda in realtà dovrebbe essere il suo prezzo ma per una scheda originale abbastanza poco ci sono schede originali che costano 300 400 500 euro e sono un acquisto stupido perché cioè io le amo ma sono un acquisto stupido perché sono destinate a smettere di funzionare cioè tu compri una patata bollente devi cioè sai che a un certo punto smetterà di funzionare e saranno dolori ripararla se sarà possibile ripararla comunque anche tenerla come oggetto può avere il suo senso come collezionismo anche un po' tra virgolette fini a se stesso nel senso senza utilizzarla tenendola così come quello secondo me è molto stupido cioè c'è gente che lo fa io ho rispetto ma io non lo farei mai perché io cioè potessi lanciarle giù dal balcone lo farei c'ho un armadio pieno di sticcata falchi verdi alcuni funzionano tu vuoi proprio la possibilità di giocare nel modo più fedele possibile alla cosa e questo è il modo più fedele possibile però non ti interessa l'oggetto fisico in sé molto interessante la digitalizzazione vera dell'altro avere l'oggetto fisico nell'era e tu mi capirai benissimo nell'era del del tutto disponibile in digitale dell'enorme accessibilità del fatto che tu adesso parlando con me senza neanche smettere di parlare con me hai potuto mandare i miei video o le robe che citavo così al volo siamo nell'era del grande accesso e quindi e anche nell'era in cui tutto è digitale poi magari uno non piace che tutto sia digitale a me non dispiace ma le cose non occupano spazio tu puoi avere una collezione di un milione di giochi e averla su un hard disk non occupare spazio ecco in quest'era del massimo accesso le cose che ti tolgono feature hanno un fascino hanno un loro perché io faccio un esempio del vinile il vinile alla fine sì ci sono quelli che dicono che ha un calore diverso così secondo me sono puttanate cioè ha un fascino diverso sono d'accordo il suo fascino è che il vinile devi ascoltarlo in devi decidere di ascoltarlo devi essere in un luogo per ascoltarlo non lo puoi ascoltare in treno in macchina devi metterti sul divano devi fare l'atto conscio di tirarlo fuori prenderlo metterlo sul piatto a un certo punto girarlo quindi il vinile ti impedisce di saltare rapidamente da una traccia all'altra lo puoi fare ma è un casino quindi il pregio del vinile sono tutte le robe che ti toglie così come un maggiolone del 69 è un mezzo de merda perché per andare ti porta come la mia fiesta dal punto A al punto B ma se ti si rompe uno specchietto un fanalino devi bestemmiare per un sacco di tempo e avere la PCB di Russian Attack è come averlo in vinile perché devo aprire il cabinato attaccarlo dal verso giusto controllare la tensione sull'alimentatore che sia giusta farlo partire poi magari non funziona qualcosa ecco ma che partitura sto facendo a Green Berret in questo video è fantastico questo se non sbaglio è la live in cui provi a finirlo con un credito in cui ho fatto la perfect run non lo so forse vediamo comunque Exastarles a questo proposito ribadisce che il futuro è FPGA esatto sì sì assolutamente il futuro è FPGA quindi siamo appositi secondo me avere appunto avere un vinile avere una la scheda originale di un gioco avere un certo oggetto è una scelta molto conscia oggigiorno e secondo me vissuta così non è collezionismo ma modo di apprezzare in maniera intensa qualcosa molto bene allora io direi Fabio visto che la chiacchiera è andata avanti in modo talmente veloce che non mi sono reso conto che comunque è passato già un bel po' di tempo io direi di passare alla parte in cui i nostri amici in chat ci girano le loro domande a cui tu cercherai di di rispondere sta morendo progressivamente ma ci piace ma risponderò alle vostre domande con gusto fantastico allora come vedete per le domande se ne volete fare ancora scrivete chiocciola uolone ign cancelletto domanda e la vostra domanda ne abbiamo già raccolto un po' grazie al lavoro del sempre attentissimo Lucio frenetico noi abbiamo questo moderatore con il link più veloce del west Fabio allora è una sfida che dobbiamo fare Lucio attenzione ti sfidano allora Outer Raven chiede questa tua bellissima idea di videogame unito all'aggregazione proprio appunto dei videogame passati con l'arrivo dell'online le cose sono cambiate molto pensi che il videogame si allontanerà completamente dalla tua visione secondo me non l'ho mai fatto ancora oggi si gioca insieme ovvio si gioca in modo diverso insieme ma come io giocavo ovvio sono per il mio bias per la mia deformazione sono convinto che il divano sia insostituibile come mio nonno era convinto che andare fuori a tirare quattro calci a un pallone fosse insostituibile ma per me quello che era magico era stare a passarsi il controller a giocare al Tered Beast quindi no non credo che il gaming sia diventato un hobby solitario e che si sia allontanato dalla mia visione ovvio si è evoluta e alcuni dei suoi aspetti sono mi sono meno vicini senza dubbio ma anche perché tutta una certa dimensione del mondo online per la vita che faccio fuoriando in giro così non l'ho potuta vivere e quindi per me l'occasione di multiplayer è giocare sul divano però io penso che in realtà per quanto all'apparenza sembri che si gioca di meno insieme perché è online non è la stessa cosa io penso a tutti i ragazzini e ragazzine negli anni 80 che magari vivevano a pragelato e non avevano nessuno con cui condividere quest'hobby che adesso in automatico hanno migliaia e migliaia di persone da un lato con cui giocare online ma anche con cui vedere twitch secondo me il videogioco è molto meno solitario di come sembri poi ovvio il mondo cambia gira e è meno probabile trovarsi sullo stesso divano e questo per me è un peccato ma non credo che sia l'unico modo e comunque le esperienze da divano ci sono ancora molto bene senti invece Jenny Flipper ah bella questa sul fatto visto che curi le localizzazioni visto tutto il clamore che ha generato Kojima mettendo su una trama e una lore del tutto nuova in Death Stranding se proprio dovessi tradurlo in italiano il titolo del gioco come lo tradurresti non so cosa significa cioè non so in che senso hanno usato Death Stranding perché io ho visto il trailer mesi fa quando ho detto questo qua lo vorrò giocare a un certo punto e io me ne sono fregato non ho letto niente va bene basta basta no allora lasciamo spoiler ma perché e non è neanche per fare gli snob che ignorano il titolo dell'ultimo momento è che secondo me se c'è una cosa veramente grandiosa che sta facendo Kojima a prescindere dai giochi è salvare l'autorialità nei giochi io non lo so se mi piacerà Death Stranding e non me ne frega niente di a chi è piaciuto cioè secondo me siamo entrati in una fase dei videogiochi ne escono una volta ne uscivano dieci quindi era ovvio che dicessi questo buono questo no questo buono ma adesso ne escono a migliaia non so quanti giochi escano tra Steam e Epic Store in un anno ma sono no beh è un numero insensato probabilmente decine di migliaia quindi stiamo iniziando a fare a parlare come se andassimo in biblioteca e pretendessimo di avere un'opinione su tutti i libri che ci sono sì e tra l'altro al netto del fatto che ci sono dei libri che sono che hanno parlato a molte persone quindi vengono considerate dei capolavori o comunque interessanti e alcune robe che sono considerate delle porcate di bassa lega secondo me a me piacerebbe approcciarmi mi piace anzi lo posso fare perché scrivo molte meno recensioni ultimamente mi piace approcciarmi ai videogiochi come a una roba di gusti cioè ti sei letto questo libro questo libro ti è piaciuto moltissimo questo libro ti è piaciuto di meno e secondo me la cosa grandiosa che ha fatto Kojima è salvare il concetto che quello è un'opera di Kojima quindi è un'opera autoriale e nella sua autorialità obbliga la gente a fare questa pantomima insopportabile sui social di e a me è piaciuto questo e a me non è piaciuto nota a me piace parlare di videogiochi ma con Death Stranding ho visto tutti dare il peggio secondo me o meglio non sono contrario alle discussioni su Death Stranding ma ho trovato che molte fossero superflue nella ricerca di una verità oggettiva che tu te lo sei fatto piacere perché sei un venduto che tu che invece non avete capito è noioso che invece non avete capito è la noia il messaggio che invece non avete capito è bello proprio perché è bello camminare questa è una roba ma l'hai seguito un po' di chiacchiere però l'hai seguito però un po' di chiacchiere no è impossibile ma io non so in che senso si parli di Death Stranding no 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 questo l'hai chiarito subito all'inizio e allora lasciamo stare questa domanda questa domanda la lasciamo stare secondo me ma ne è venuta fuori una risposta ancora più interessante sai c'è un'altra domanda interessante un po' più pratica di Black Cat che dice puoi quantificare o provarci almeno i costi della traduzione di un gioco e spiegare più o meno che tipo di vendite deve fare un gioco perché vi sia la possibilità che sia tradotto cioè mi stai chiedendo di fare un business plan cosa che anche se lo sapessi fare non sarei in grado ma un'idea che ti sei fatta anche avendo in mano tutti i dati ma è una è una cioè stai parlando di un'equazione di un'equazione con un sacco di variabili che sono i territori in cui verrà pubblicato il gioco le basi installate nei territori i potenziali di vendita quindi calcolare quanto devi vendere è impossibile e calcolare quanto costa è direttamente proporzionale al numero di parole che devi tradurre e al numero di lingue in cui le vuoi tradurre e ovviamente più un gioco è grande più è costoso cioè tradurre un gioco da un milione di parole e ce ne sono costa mille volte di più di tradurre un gioco da mille parole perché sono pochi senti invece Elisa Chira ti chiede quindi appurato che la norma è tradurre senza vedere il gioco è difficile capire come tradurre qualcosa perché a volte non hai presente il contesto non al 100% almeno e quindi come fai fondamentalmente hai qualche trucco più è bravo lo sviluppatore più il materiale che ti viene dato è preparato cioè se tu hai uno sviluppatore bravo alle spalle ti danno comunque dei materiali dei riferimenti grafici vedi dei mock-up vedi dei filmati a volte ti invitano addirittura nello studio a vedere il gioco nelle fasi mega beta ovviamente ma e poi ti danno dei materiali ti danno delle risposte se tu hai delle domande e tendenzialmente cercano di preparare i materiali in modo che i copioni abbiano contesto abbiano come dire tu sappia chi sta parlando chi non sta parlando i toni l'ambientazione insomma tutte queste robe sono molto importanti e alcuni sviluppatori te le danno altri sviluppatori ti danno il materiale in disordine cioè ci sono sviluppatori che ti danno tutto in ordine commentato preciso e sviluppatori che sbagliano e hanno i database incasinati e ti mandano magari le battute non nell'ordine giusto sequenziale e se gli chiedi chi sta parlando magari non lo sanno neanche loro questa è la differenza ok quindi a volte quando vedi un errore potrebbe essere incompetenza del traduttore o incuria del traduttore senza dubbio che non ha fatto una domanda o che ha interpretato male una cosa ma potrebbe anche essere un fallimento da parte di chi gestisce il processo di localizzazione e fornisce dei materiali complessi poi nota bene un materiale complesso incasinato se lo sviluppatore risponde a tutte le domande bella lì funziona ma capita a volte molto spesso che più hai un database in disordine è più perché sei disordinato e non ci hai messo me delle mani e quindi magari non hai tempo modo o capacità di rispondere alle domande che ti faccio senti Elisa Chira voleva anche vedere Outrun credo in questo senso cioè la stiamo facendo vedere così no ma tu probabilmente poi ah ecco perfetto ecco questo è un altro vedere a questo punto e a questo proposito ancora rinomaggio ti chiede se hai la scheda originale di uno dei suoi giochi preferiti che è Wonder Boy no però 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 c'è Babic qualcosa Babic avrà di sicuro arrivo eh sì 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 sta arrivando nel frattempo continuiamo a guardare scorrere è bello chiedere una roba del genere a Ken Hobbit perché qualcosa ti tira fuori in un modo o nell'altro tra l'altro io allora a proposito non è la scheda non è la scheda originale di Wonder Boy ma è la scheda bootleg che mi ha regalato Andrea Babic che è un bootleg che ha vissuto molte battaglie cioè guardate la differenza di proprio di come è messa la scheda questo è Wonder Boy nella versione bootleg che quindi è quella che hai giocato in Italia secondo me è una risposta ancora più figa cioè uno ti chiede una roba del genere e tu gli dici no ma in realtà hai un'altra roba che è folle io amo i bootleg in realtà perché i bootleg sono quelli che giocavamo noi poi ovvio del gioco che ami così magari di originali ho solo Circus Charlie Russian Attack che è Green Barret Circus Charlie il regalo meraviglioso di Andrea Babic tra l'altro e il blog Ross perché l'avevo trovato a poco e benedetta di Konami ho un sacco di roba Konami non ci penso vabbè però poi amo i bootleg perché i bootleg sono quelli che giocavamo noi da piccoli nelle sede giochi senti visto che faccio una piccola pausa sulle domande che arrivano perché visto che prima o poi chiaramente invitare Kenobit a una trasmissione è invitare Kenobit che per carità comunque l'individualità la personalità è tutto però è comunque invitare solo un pezzo di Keno Bisboc quindi prima o poi avremo Bisboc senz'altro a chiacchierare però a proposito di Bisboc e di Keno Bisboc io voglio lanciare un attimo mettiamo qualche minuto di musica cantata by Bisboc benissimo che è una delle cose che fa lui molto spesso è cantare cose raccontare cantando esattamente ospiti del nostro membro della crew di Keno Bisboc non so se c'è presentato da te e non lo sto sentendo giustamente però mi ricordo questo video lui canta Altered Beast cioè mentre Altered Beast viene giocato lui fa la telecronaca cantata e vai Ging ascoltiamolo un attimo vai Gingy vai vai forza Gingy sorgi dalla tomba che è il mio amico Gingy tra l'altro fatti una carriera come zombie vai forza Gingy spacca le gambe agli zombie tanto sono già con un piede nella fossa e questo gioco sai mi fa pensare che Altered Beast in effetti è il simbolo del cristianesimo se tu lo servi bene comincia con un uomo che risorge dal sudario come il Cristo Gingy combatti e salverai la tua ragazza che è stata come al solito rapita ma che fantasia senti Gingy non capisco perché tu sei morto eppure è così muscoloso nemmeno in tutta la vita sarò così nerboruto sai forse da morto chissà e intanto affronta no non affronti lui perché non hai tutti quanti gli orb che ti trasformano in un altre beast quindi devi fare un secondo giro per catturare questo orb che ti darà il lupo fosforescente ma cosa stai facendo si vede che la critica l'ansia da prestazione vi sta penalizzando non ho ancora visto nessuno fare one credit clear si è trasformato guarda è un momento importante trasformato trasformato nell'uomo lupo che può sparare le palle di fuoco e morti viventi e in questo modo arriveremo a fine stage attento che te lo mettono in quel posto apprezza come mi sono autocensurato al volo va bene va bene potremmo andare avanti per ore è un rapper nato nel corpo di Guccini non nel senso che ma nel senso che c'è il rapper dei cantautori è vero è vero il freestyler dei cantautori assolutamente da poco comincia la tradizione natalizia di Bisboc su youtube di Cidino Mosauro che è il Commodoro 64 Advent Show il calendario dell'avvento di Bisboc ma proprio di Bisboc sì 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 grande iniziativa sempre apprezzata sigla meravigliosa Commodoro 64 Advent Show è diventato lino del canale diventato lino del canale ah in generale addirittura fantastico fantastico sì sì assolutamente bellissimo allora allora quindi Bisboc ci verrà a trovare anche lui e parleremo di Kenobit con Bisboc come abbiamo fatto in al contrario un po' stasera in varie occasioni allora vediamo qualche altra domanda Fabio poi dopo toccherà a te fare una domanda al prossimo ospite che tra un po' riveleremo allora come hai scoperto l'esistenza e la possibilità di fare musica col Game Boy chi te l'ha detto e qual è stata la tua reazione chiede Niccord allora ho iniziato a fare musica usando dei VST un VST che si chiamava P cioè meglio facevo già elettronica facevo tecno facevo roba che dopo mi si era sciolta la band punk e mi ero messo a usare il sintetizzatore come cantava Bugo e a un certo punto ho trovato un VST che faceva dei suoni malissimo del NES e avevo caricato un pezzo su questo sito che si chiamava 8-Bit Collective che ai tempi era un sito americano che raccoglieva quella che era la seconda ondata della CipTune quella nata intorno a Micromusic.net ecco un po' dal punto di vista americano di quella roba lì dove ho scoperto che c'era l'SDJ che è il programma che uso su Gameboy e dove in realtà ho scoperto che non ero solo perché dopo aver caricato quel pezzo che era una cover del tema del pranzo del servito non chiedermi perché sono stato significato dall'altro italiano che c'era questo si fa oh ma tu sei italiano ma dobbiamo vederci e lui ha limitato un fratello lui era Rottenbit combinazione volle che il giorno dopo che ho caricato quel pezzo lui suonava dietro la casa mia ci siamo conosciuti ho visto dal vivo questo l'SDJ che sapevo già esistere e ho iniziato a farlo anch'io e la mia vita è cambiata al 77% in meglio al 77% ok perfetto mi piace anche la precisione di questa cosa allora 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 c'è una domanda addirittura di Quedex che però se non vedessi il nome Quedex non direi questa è la domanda di Quedex dimmi se tu ti aspetti da Quedex una domanda del genere quale gioco del passato avresti amato tradurre cioè no però non è una assolutamente Monkey Island 2 ah fantastico subito te lo dico come valuti bravo bravo questo volevo di chiederti perché secondo me è una figata la traduzione no non è è tradotto molto bene per gli standard dell'epoca certamente certo ha alcune ingenuità ma soprattutto chi voglio prendere per il culo avrei voluto avere il mio nome nei titoli finali di Monkey Island cioè già per me è stata una grande realizzazione avere il mio nome nei titoli finali di Timbalweat Park cioè di avere condiviso un titolone di credits finale con Ron Gilbert David Fox Noah Falstein Gary Winnie tutta gente che per me da piccolo era così e sì no vorrei assolutamente aver tradotto Monkey Island 2 senti invece Paris vuole sapere che rapporto hai con i giochi su schede Sega tipo Naomi Model 2 eccetera o è roba troppo nuova mi piacerebbe moltissimo avere un altro cabinato qua da dedicare a quelle cose ma l'architetto mi ha detto che se avessi un altro cabinato rischerebbe di andare al piano di sotto proprio come cedimento strutturale quindi non ho un cab cioè perché vorrei un cab dedicato Naomi sì mi piacerebbe avere un Virtua Tennis robe simili così ma non posso permettermelo a livello di peso e quindi non ce li ho ma mi piacerebbe molto averli e ogni volta che mi imbatto in uno di quelli mi prendo molto bene ottimo ottimo senti ti preoccupa l'evoluzione delle traduzioni automatiche chiede Dante Horror Show probabilmente dal punto di vista di chi lavora nel campo o magari anche proprio così come umanità ti preoccupa mi so che arriveranno so che prima che diventino che raggiungano un livello competitivo con me essere umano ci vorrà molto tempo io sarò già in pensione o comunque avrò già smesso di tradurre e credo comunque che soprattutto nella sua fase Rozza avrà un impatto negativo sul lavoro dei traduttori perché alcuni per risparmiare inizieranno a secondo me far tradurre i videogiochi alle macchine per poi relegare i traduttori a un ruolo di revisione quindi pagato molto di meno io so benissimo che non accetterò mai un lavoro simile ma non posso biasimare uno che magari avrà bisogno di farlo e lo accetterà e si abbasserà il valore della nostra professionalità questo è uno scenario negativo possibile ma sinceramente non me ne preoccupo perché secondo me farò in tempo essere fuori da questo settore magari anche persone in pensione proprio prima che la cosa diventi veramente un fatto importante attenzione grissini in arrivo caraibi marta buono ammazzo che buono marta quanto pesa un cabinato per il problema di cadere chiede giustamente Ragnetta perché lei dice io di mettere quanti più mobili possibili in casa mia non mi sono mai preoccupato più di un mobile pieno di roba Outram pesa 200 kg e questi qua ne pesano un ma stai scherzando no Outram pesa veramente come un appunto no c'è uno di questi peserà un minimo 120 kg secondo me perché ti ho in conto che i tubi cattolici dentro sono già pesanti di loro poi c'è un sacco di legno c'è un sacco di roba è tanto sì sì ok quindi è giusto ha ragione l'architetto senz'altro senz'altro allora allora Fabio io direi che abbiamo chiacchierato abbastanza è stata una serata meravigliosa grazie bello 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 come al solito però diciamo in questa cornice così mi è piaciuto particolarmente sì sì poi ho un batterio quindi volevo devo chiederti allora a questo punto di girare una tua domanda al prossimo ospite che attenzione sarà non lunedì prossimo ma mercoledì poi lunedì torneremo ancora con un altro ospite ma da questa settimana iniziamo a vederci a chi c'è da ualone due volte a settimana generalmente sarà il lunedì e il giovedì ma siccome questo giovedì c'è x19 che magari può essere qualcosa di interessante annunci di microsoft eccetera allora anticipiamo a mercoledì e l'ospite sarà paolo paglianti paolo paglianti allora quindi quindi tu devi girare una domanda a paolo paglianti ex caporedattore storico di giochi per il mio computer di tante altre riviste di videogiochi dell'era delle riviste cartacee che adesso fa tutt'altro poi questo lo scopriremo con lui che cosa vuoi chiedere serio posso anche essere un coglione io penso che tu sia chiamato Fabio essere un coglione allora la prima volta che ho visto paolo paglianti nella vita proprio nel cioè no lo leggevo sulle riviste di videogiochi su game power su k così ma la prima volta che l'ho visto stava scappando come una gazzella ed era inseguito da gorman che gli aveva lanciato una era gorman aveva lanciato una stampante a paolo paglianti che l'aveva schivata ed era scappato in maniera rocambolesca quindi la domanda era non glielo ho mai chiesto paolo cosa avevi fatto per meritare di essere preso a stampantate bellissima stampante quelle grosse sì 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 no infatti è assoluto questo è un racconto anche tra l'altro non so potremmo averne già parlato con gorman in live proprio qui sul sul canale che adesso nega tutto ma il cazzo in realtà potremmo averne già parlato con gorman altrimenti lo faremo faremo innanzitutto ne parliamo con gorman a un certo punto tipo nei prossimi giorni e poi sì assolutamente no no questa è una bellissima domanda da fare a paolo paglianti non mancate mi raccomando mercoledì alle 21 per avere questa risposta da paolo paglianti e tanti altri racconti legati al periodo delle riviste cartacee che tanto ci piaceva tra l'altro c'era una domanda ultima di Pierotto Bit che chiede sia a me che a te come è stato passare dalle riviste cartacee al resto a quello che è venuto dopo è come se mi avessero bucato il pallone mamma mia che bella non me l'aspettavo tra l'altro la risposta così diciamo malinconica però no non è malinconica perché adesso Twitch mi ha ridato il piacere delle riviste e trovo che sia un bene che quel pallone me l'abbiano bucato perché secondo me l'errore che il grande errore professionale al quale siamo stati esposti io te Babic Surgo era stare a piangere su quel pallone bucato perché sono molto belli anche i siti ma le riviste la redazione avevamo un luogo felice e incredibile che ho deciso di essere felice di aver vissuto invece che triste perché non ce l'abbiamo più e quindi sostanzialmente di smettere di piangere su questo pallone bucato però sì è stato come se mi avessero bucato il pallone bellissimo immagine meravigliosa malinconica del pallone bucato mi piace anche tutto il resto non voglio aggiungere niente a questa risposta è la stessa cosa che penso bellissimo va bene Fabio grazie 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 a tutti per l'ospitalità assolutamente grazie a te grazie a tutta la chat grazie a tutti gli amici di Ikeno Bisboc che sono arrivati qui apposta e che magari da adesso in poi potranno decidere anche di dare uno sguardo a questo canale ogni tanto e ci vediamo prossimamente ci vedremo qui anche con Bisboc prima o poi magari anche con Bellotta e ci vediamo anche da voi qualche volta dai una di queste sere magari vengo a quando cucini qualcosa di buono praticamente sempre quindi vengo a trovarvi ah io vabbè nella prossima culinaria allora Ualo ok rizzo e cibo e cebova e cebova esattamente esattamente grazie ragazzi noi ci vediamo domani mattina alle 12 e 30 per il buongiorno laggato e alle 8 e mezza per il buongiorno ah quindi chi si sveglia serio alle 8 e mezza su Kenobi i laggati possono arrivare alle 12 e 30 qui e poi mercoledì alle 21 nuovo appuntamento con chi c'è da Wallone con Paglianti grazie ancora Kenobit e pronto per il cartonato Caraibi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti